Buongiorno e benvenuti a questa quattordicesima edizione delle giornate fermiane, vi porgo innanzitutto il benvenuto e saluto della nostra direttrice che purtroppo ha avuto un lutto in famiglia e non è qui, la direttrice del Dipartimento di Fisica e di Astronomia che ci ospita in questa sua sala. Anche il direttore della sezione dell'INFN di Padova mi ha pregato di portare i suoi saluti perché è impegnato fuori sede. Il terza struttura organizzatrice dell'evento è il liceo Fermi e anche il sovrintendente, porta tu i saluti. Sì, porgo il saluto della nostra preside, la professoressa Angelini che non è potuta venire per altri impegni ma voleva far sentire la sua presenza e il forte impegno della scuola, del liceo, della scuola insieme alle altre istituzioni per costruire una rete di rapporti che possa essere proficua sia dal punto di vista della formazione degli studenti sia della informazione degli studenti relativamente alle attività di ricerca di punta che si fanno per esempio all'Università di Padova e in giro per il mondo perché la conferenza fermiana si caratterizza per avere come ospiti dei rappresentanti della ricerca scientifica in Italia ma che naturalmente varcano i confini perché si occupano di ricerche effettivamente di punta e quindi oggi abbiamo dei campioni di questo campo. Colgo adesso l'occasione per presentare il primo relatore che è il professor Pascolini, il professor Pascolini ha insegnato fino all'anno scorso all'Università di Padova e ancora si occupa di insegnamenti presso alcune istituzioni per esempio al Master Europeo di Venezia dei diritti umani e democratizzazione perché inoltre all'attività scientifica il professor Pascolini ha affiancato anche un'attività di impegno civile tenendo corsi non solo di fisica nucleare ma di fisica matematica ma si è interessato anche in tecnologie militari e fisica per la pace diciamo così partecipando anche realizzando mostre e attività di divulgazione anche in relazione alla sua adesione e partecipazione come membro del Pugwash Conference on Science of World Affairs e nel 2004 in particolare ha ricevuto il premio della Società Europea di Fisici per la divulgazione e quindi oggi ci parlerà della luce e della breve storia del concetto di luce e poi ascolteremo invece la relazione del professore che si occupa come vi ho detto prima dei raggi cosmici è un'occasione nuova quest'anno perché abbiamo anche ospiti in connessione Skype no in connessione Skype anche in connessione Skype in connessione con YouTube che ci vedono in videoconferenza e sarà possibile avere la videoconferenza registrata su YouTube anche in seguito quindi anche in differita diciamo così quindi un grandissimo saluto a questi nuovi ospiti quindi le conferenze fermiane che di solito sono rivolte alle 200 persone che possono essere ospitate in questa sala piuttosto prestigiosa direi dell'Università di Padova oggi varcano i confini per il primo anno dopo un anno sperimentale l'anno scorso in cui alcuni si erano potuti con le gare quest'anno penso che abbiamo abbastanza ospiti che ci ascoltano da altre scuole quindi un grande saluto a loro che ci guardano e cominciamo con la prima relazione col professor Pascolini grazie cercheremo di seguire 2500 anni di storia nei prossimi minuti e il primo problema che noi abbiamo è visto che dobbiamo parlare di luce è di capire di che cosa stiamo parlando in fondo che cos'è la luce e qui ho preso quattro autorevoli definizioni il secondo Webster è qualcosa che rende possibile la visione secondo l'Oxford Dictionary dice un genere di radiazione naturale che rende possibile la visione l'enciclopedia della fisica dice un ente fisico al quale è dovuta la citazione dell'occhio delle sensazioni visive ciò che permette all'occhio di vedere gli oggetti ho chiesto a mia nipotina Margherita ha detto che la luce è quando non è buio e c'è qualcosa che ha in comune tutte queste definizioni è che la luce non è qualcosa che prescinde da chi la vede e quindi noi abbiamo che la luce non è un ente fisico autonomo ma fra virgolette dipende dall'uomo dipende dalla fisiologia dell'occhio dipende dai processi percettivi che noi abbiamo e di fatti varia da persona a persona per una persona varia nel tempo e col tempo per cui per poter misurare la luce gli oggetti in fisica devono essere misurabili è stato introdotto un occhio fotometrico normale medio robotico col suo fattore di visibilità e quindi noi abbiamo che in questo occhio occhio normale medio la risposta relativa alle varie lunghezze d'onda segue esattamente questa curva per definizione e lo spettro visivo per definizione è compreso fra 400 nanometri e 700 nanometri quindi c'è un'artificialità questa dipendenza dal come noi vediamo introduce questo elemento che in generale per la fisica che deve essere indipendente da chi lo osserva è un elemento di disturbo e quindi quello che conta in particolare l'occhio umano come è fatto come funziona e come i segnali luminosi vengono trasmessi vedremo che nel corso dei secoli l'esame, lo studio dell'occhio umano e della percezione è stato un elemento fondamentale però esiste anche un altro rapporto della luce della luce con Dio secondo la Bibbia Dio crea la luce il primo giorno a prescindere sia dalle sorgenti perché il sole, la luna, le stelle sono create nel quarto giorno e anche da chi osserva perché l'uomo è creato nel sesto giorno quindi abbiamo nella tradizione religiosa, ebraica e cristiana un ruolo della luce che ha un'esistenza in sé a prescindere da chi la genera e da chi la vede questo naturalmente ha avuto grande influenze e noi troveremo nel corso dei secoli questa dimensione teologica della luce per esempio nella dottrina agnostica diventa un attributo personificato di Dio l'inizio del Vangelo di Giovanni in cui appunto si parla della luce vera che viene in questo mondo eccetera e ancora di più nella cabala teosofica la luce coincide con una delle dieci sefirà la tiferet che è un mezzo con cui l'energia divina si diffonde nel creato con enormi conseguenze per tutto il pensiero cabalistico questo aspetto, questa dimensione teologica è importante da tenere presente perché ha una grande influenza sia sul pensiero cristiano ed ebraico del Medioevo fino a diciamo al 700 invece quelli a cui non attribuiscono alcuna dimensione divina alla luce sono i greci non esiste nell'Olimpo greco un dio della luce viene personificato quasi tutto ma viene personificato il sole e la luna ma la luce in sé non compare come divinità a parte in questo mondo greco la luce viene studiata secondo due prospettive da una parte abbiamo lo studio sulla natura della luce e dei colori e quindi gli aspetti anche fisiologici questo viene trattato nella filosofia e qui vengono messe a punto delle teorie che rimangono fino a diciamo al 700 che sono la teoria dei raggi visivi la teoria stoica della pressione la teoria epicurea delle immagini la teoria platonica e aristotelica dei colori separata, completamente separato da questo approccio c'è un approccio invece geometrico quindi l'ottica geometrica si sviluppa come una disciplina indipendente di natura matematica e tratta e tratta e sviluppa la teoria dei raggi luminosi come entità astratte puramente matematiche questi due mondi non si parlano fra di loro nel primo tutti i personaggi coinvolti sono stati poi presentati nella scuola di Atene quindi veniamo allora i raggi visivi la teoria dei raggi visivi secondo Pitagora dall'occhio escono in linea reta dei raggi visivi quindi questi raggi visivi toccano i corpi e quando toccano i corpi trasmettono all'occhio una sensazione che è analoga a quella del tatto come noi col tatto tocchiamo i corpi e abbiamo una sensazione così i nostri raggi visivi toccano i corpi e ci trasmettono un segnale e quindi gli stoici sostituiscono a questi raggi che escono dall'occhio una pressione che è prodotta dall'anima sulla pupilla uscendo dall'anima questa pressione si allarga a forma di cono fino ad arrivare all'oggetto il sole che riscalda l'aria la rende rarefatta e rende più facile la trasmissione del cono di pressione che esse dall'occhio arriva sul corpo e quindi dà il segnale di notte l'aria è più densa e questo è il motivo per cui nel buio non si può vedere a grande distanza quindi comunque noi abbiamo da una parte l'occhio o l'anima come sorgente e l'oggetto che viene catturato in toto ed ha il segnale che noi poi chiamiamo immagine dell'oggetto nella teoria epicurea invece atomista qui abbiamo Empedocle Leucippo Democrito e Lucrezio abbiamo la situazione opposta sono i corpi che emettono un effluvio di atomi questi sono diffusi nell'aria in ogni direzione però conservando la forma dell'oggetto non è che gli atomi vanno ognuno per loro conto la scorza la superficie dell'oggetto viene trasmessa atomo per atomo e arrivano fino all'occhio e in questo modo noi abbiamo la visione quindi la loro immagine è proprio l'idea che l'oggetto esce la superficie dell'oggetto dalla sua superficie si stacca questo involucro e questo involucro arriva intero fino all'occhio queste sono le due posizioni dominanti che continueranno ad avere spazio nei secoli Platone è il primo che dà un'importanza alla luce fornita dal sole lui considera dalla luce l'emissione di luce in linea si irradia sui corpi che vengono illuminati dall'occhio escono dei raggi che si incontrano con quelli che sono riflessi dai corpi e se c'è un aggiustamento fra questi due raggi quelli che escono dagli occhi e quelli che provengono dall'oggetto come riflessione della luce mandata dal sole allora in questo modo noi riusciamo a vedere e capire le cose da qui arriva la sua teoria dei colori lui dice che i corpuscoli che vengono irradiati dai corpi devono interagire con i raggi che escono dall'occhio ebbene questi corpuscoli possono essere più grandi o uguali o più piccoli di quelli dell'organo che vede se hanno la stessa grandezza il corpo appare trasparente se sono più piccoli questi danno la sensazione del bianco se invece sono più grandi questo dà la sensazione del nero dopodiché tutti gli altri colori provengono dalla miscela di bianco e di nero Aristotele riprende questa teoria nell'ambito della sua concezione generale di differenziazione fra la potenza e l'atto e lui ritiene che la presenza necessaria della luce per poter vedere se non c'è luce non esistono i colori invece la tradizione dell'ottica geometrica vede Euclide Tolomeo e Erone Alessandrino che sviluppano una teoria puramente deduttiva come la geometria astratta nello stesso modo costruiscono introducono il concetto di raggio come astrazione matematica che è necessaria per indagare i fenomeni e questi raggi si propagano indefinitamente in linea retta e formano un cono che ha come vertice l'occhio e come base l'oggetto e quindi l'effetto sulla visione dipende dall'angolo di visuale in questo modo vengono studiati i processi di riflessione degli specchi la propagazione della luce e Claudio tolomeo studia anche oltre alla riflessione anche fenomeni di rifrazione e questo lo fa in modo sperimentale non riesce a trovare la legge ma dà delle misure sperimentali che rimangono a disposizione verranno utilizzate nei secoli una cosa che sarà importante nel seguito è un contributo di Erone di Alessandria il quale giustifica la trasmissione e la riflessione in base in base rettilinea sul principio del percorso più corto quindi c'è un principio di minimo che poi verrà ripreso mille anni dopo e sarà entrerà poi nell'uso corrente della trattazione dei problemi fisici accanto a questa diciamo la parte dotta noi abbiamo che in realtà altri fenomeni vengono utilizzati praticamente perché fino dai tempi degli titi e certamente dagli egiziani c'è l'uso normale quotidiano di lenti con lo scopo o di accendere il fuoco o di riuscire a ingrandire e quindi per gli artigiani che dovevano fare dei lavori estremamente di precisione in particolare gli orafi la possibilità di ingrandire le immagini ha portato all'uso di lenti la prima lente che si conosce è del assira quindi del 700 avanti cristo e un altro riferimento all'uso di lenti eustorie si trova nelle nuvole di aristofane per esempio però tutti questi contributi che potevano venire dall'uso dalla pratica e dalla conoscenza delle lenti non sono considerati dalla cultura greca per la cultura greca quello che conta è l'attività che non ha nessuna applicazione pratica quindi qualcosa che deve essere slegato la scolè o l'ozium poi per i latini che deve essere svincolato dalle applicazioni pratiche che sono compito degli schiavi e pertanto vedremo che fino per altri bisognerà arrivare al 1600 perché il mondo della cultura comincia a prendere in considerazione i contributi che vengono dallo sviluppo delle lenti se voi volete il testo di Aristofane c'è questo strepsiade che è un furbastro il quale riesce a inventare dei trucchi basandosi sui sofismi per risolvere i problemi e per evitare di dover pagare una multa di 5 talenti dice io prendo una lente ustoria e quando il giudice comincia a scrivere sulle tavolette di cera io brucio la tavoletta di ceri e quindi li frego e guadagno 5 talenti però questo ci dà un'idea che gli oggetti c'erano la gente sapeva usarli però non vengono assolutamente considerati dal mondo della cultura nel medioevo quello che continua la tradizione culturale greca è il mondo arabo e in particolare anche loro hanno dei periodi tumultuosi ma dal nono secolo in poi si creano delle scuole in particolare a Baghdad è una scuola medica dove si comincia a studiare anche la fisiologia dell'occhio e un personaggio importante è Al Kindi che è un astrologo e quindi lui introduce il principio che l'emissione dei raggi avviene dalle stelle ma anche le singole cose emettono raggi quindi nega che la visione sia dovuta a raggi che escono dall'occhio ma dice sono tutti gli oggetti emettono dei raggi che una volta raccolti dall'occhio ci fanno conoscere le immagini delle cose l'unico grande studioso di ottica del medioevo è Al Alazen che vive anche lui a Baghdad per lo più attorno al cavallo del X-XI secolo e lui quello che fa utilizza le conoscenze fisiologiche dell'occhio lo studia e ricostruisce la raccolta anche lui rifiuta l'idea dei raggi visuali che escono dall'occhio ma considera invece i raggi che sotto l'effetto dell'illuminazione vanno dagli oggetti verso l'occhio però rifiuta l'idea atomista della scorza che si muove dalla superficie e arriva nell'occhio ma dice che l'emissione avviene punto per punto cioè ogni punto dell'oggetto illuminato manda un segnale luminoso che arriva fino all'occhio questo è un atteggiamento completamente rivoluzionario rispetto a tutte le due tradizioni greche precedenti lui riesce in questo modo a studiare la rifrazione della luce ovviamente la riflessione e quindi il suo lavoro si occupa di moltissimi altri fenomeni ottici compreso l'arcobaleno e così via i suoi testi cominciano a girare dalla seconda metà del 200 e vengono resi noti con una traduzione del 1572 e questa traduzione è uno dei pochi testi nella biblioteca di Galileo quindi dà un'idea dell'importanza per far vedere quanti fenomeni era in grado di descrivere Alzen nella copertina della pubblicazione vengono presentati tutta una serie di eventi specchi o storie riflessione l'arcobaleno e così via quindi è un personaggio di grandissima importanza le cui idee essendo in contrasto con l'opinione corrente in realtà non verranno accettate né immediatamente né nel mondo arabo né nel mondo diciamo cristiano nel mondo cristiano un punto importante che si raggiunge nel XIII secolo è la distinzione fra due concetti fra la lux e il lumen per lux si intende la rappresentazione psichica delle sensazioni prodotte dall'occhio mentre invece si ammette che esista un agente esterno che provoca che stimola queste sensazioni e questo viene chiamato lumen e quindi questo chiarifica e semplifica un po' perché permette di avere qualcosa che è di più fisico che è il lumen mentre si lascia ai filosofi la discussione del lux la filosofia dominante si basa su Agostino su Aristotele attraverso Avicenna che è particolarmente diciamo chiuso alle innovazioni per esempio di Alzen e gli sviluppi portano un'analisi metafisica ignoseologica della luce giungendo in alcuni casi a negare completamente il ruolo lumen la visione è considerata comunque come collaborazione fra l'azione del lumen e l'azione la capacità ricettiva della psiche però quello che predomina è sempre la psiche maggiore attenzione al lumen sia nel XIV secolo con i lavori di Ockham e di Buridano e di Oresme che cominciano a studiare il lumen sulla base delle proprietà fisiche ma siamo ancora molto lontani intanto anche nel Medioevo c'è tutto uno sviluppo delle lenti e in particolare dal XIII secolo in poi viene scoperto che le lenti convergenti possono correggere la presbiopia e quindi essere di aiuto per gli anziani e vengono creati i primi occhiali la prima immagine di un occhiale è attreviso in un in un affresco di treviso un altro aspetto è che accanto agli occhiali convergenti per correggere la vista dei vecchi si scopre che dei vetri cavi opposti possono correggere la vista debole anche dei giovani qui vista debole si intende la miopia e questo è un grande questi sviluppi si svolgono completamente nel mondo degli artigiani e sono ignorati dalla cultura mentre i filosofi di fronte al fatto che le immagini vengono alterate in qualche modo attraverso le lenti considerano queste che le informazioni che si hanno attraverso manipolazioni artificiali ottiche siano da rifiutare a priori quindi le lenti per anziani sono lenti convergenti per i miopi invece vanno bene le lenti divergenti è chiaro che lo studio di queste lenti e di questi nuovi aspetti avrebbe dato grandi informazioni e infatti un modo per uno sviluppo notevole sia nel XVI secolo grazie a Francesco Mauro Lico e Giovanni Dallaporta i quali proprio prendono in considerazione le lenti e le proprietà delle lenti e questo Mauro Lico era un matematico soprattutto e il suo punto di partenza è l'assunto che ogni punto di un corpo luminoso irradia in ogni punto di un oggetto illuminato quindi vedete riprende i suggerimenti di Alas su queste basi dà una spiegazione razionale del comportamento delle lenti copre l'importanza del cristallino che agisce come una lente artificiale che proietta quindi l'immagine all'interno dell'occhio e affida il compito della sensazione visiva al nervo al nervo occhio e studia l'arcobaleno e comincia quindi a analizzare anche il problema dei colori Giovanni Battista dalla Porta diventa molto famoso i suoi libri avranno grande importanza in tutta Europa il suo primo libro raccoglie la tradizione della storia naturale dei libri di magia riportando effetti meravigliosi eccetera dopodiché però comincia a studiare problemi ottici in modo matematico scientifico descrive la camera oscura aggiunge una lente biconvessa all'apertura della camera oscura che era già stata considerata senza lenti inizialmente lui crea una similitudine fra la camera oscura e quello che avviene nell'occhio e studia molto si occupa di problemi delle lenti comincia a studiare combinazioni di lenti diverse e dà un'indicazione per costruire anche un cannocchiale oculare divergente quindi i suoi libri a differenza di Mauro Lico diventano noti dappertutto dalla porta suggerisce un possibile cannocchiale che viene inventato attorno al 1600 sempre nel mondo artigiano probabilmente in Italia viene ripreso e utilizzato da Galileo come sappiamo per la ricerca scientifica e in particolare per lo studio degli astri e le sue scoperte astronomiche attirano l'attenzione della comunità scientifica sul telescopio e sulle possibilità offerte del telescopio per l'indagine astronomica però d'altra parte aumentano anche la diffidenza che era già per le lenti tanto più per il telescopio da parte degli ambienti tradizionalisti chi sintetizza un po' la situazione e fa un passo decisivo verso l'ottica moderna è Keplero il quale per quanto riguarda la visione riconosce la retina come elemento sensibile scopre che appunto c'è l'inversione dell'immagine sulla retica quello che aveva spaventato Lars Halen e parte dalle idee di Mauro Lico e dalla porta e studia in modo sistematico le lenti i canocchiali e fa un grande trattato di ottica geometrica quindi per quanto riguarda gli aspetti puramente geometrici noi troviamo con il libro di Keplero del 1611 una trattazione pienamente utilizzabile anche il giorno d'oggi e in qualche modo questo traghetta fa un passaggio definitivo dal verso lo studio scientifico del lumen trascurando gli aspetti filosofici della lux in realtà lui commette diciamo per certi aspetti l'errore di eliminare questa dicotomia lux e lumen e chiama luce lux proprio il lumen e quindi da questo momento in poi il termine lumen scompare dalla letteratura quello che un passaggio verso un'ottica fisica cioè basata su una impostazione meccanicistica della natura avviene con Cartesio lui quello che lui fa è proprio quello di creare un sistema globale del mondo basato sulla meccanica e inserisce anche in questo la descrizione dei fenomeni luminosi per lui la luce è un movimento che procede in linea retta a velocità infinita in un universo privo di vuoto per lui l'universo è privo di vuoto ma dove non ci sono particelle atomi se volete materiali esistono particelle celesti e sono proprio queste particelle celesti che con il loro movimento trasportano la luce per cui per esempio non è il sole che dà la luce ma il sole costringe le particelle celesti a dei vortici e questo movimento è quello che poi trasmesso da una strata di particelle celesti a un altro strato di particelli celesti è quello che poi noi vediamo come luce un risultato importante che lui raggiunge con la sua teoria meccanicistica è la formulazione della legge della rifrazione in termini in termini esatti trovando la proporzionalità fra le direzioni del raggio riflatto e del raggio iniziale e poi studia anche altri aspetti un altro contributo che diventerà importante nei secoli successivi viene da Francesco Maria Grimaldi il quale tenta di mettere insieme tutti gli aspetti culturali che riguardano la luce la tradizione nuova le nuove tradizioni che stanno comparendo però questo programma è troppo eccessivo per le sue forze ma quello che lui scopre è il fenomeno della diffrazione e come un nuovo modo in cui si propaga la luce quindi descrive l'osservazione di frange che appaiono quando la luce passando per un piccolo foro lambisce gli ostacoli e in questo modo noi abbiamo che l'ombra penetra nella zona illuminata e viceversa la luce entra nelle zone d'ombra e quindi abbiamo il fenomeno della diffrazione che adesso noi possiamo vederlo in modo migliore perché a seconda delle dimensioni del foro noi abbiamo appunto queste situazioni in cui la luce e l'ombra si mescolano e questo verrà ripreso un paio di secoli dopo e avrà notevoli sviluppi anche nel concetto della luce quello che completa per molti aspetti anche pur essendo assolutamente in contrasto con lui l'opera di Cartesio per quanto riguarda la meccanizzazione dell'universo e quindi anche quella della luce è Newton e lui propone nel 1704 una nuova definizione di raggio di luce basata su una teoria corpuscolare lui dice per raggi di luce intendo le sue parti minime ossia composto di corpuscoli quello che sviluppando questa diciamo impostazione un grande successo è la teoria dei colori e la teoria dei colori di Newton dice che i colori sono qualità innate e immutabili dei raggi di luce i quali sono invece sostanze e non qualità quindi il colore come attributo ma non sostanze il raggio di luce come sostanza e non qualità dice non esistono raggi di luce bianca perché il bianco non è un colore reale ma è non è quindi una qualità innata della luce e la luce bianca invece è un aggregato eterogeneo di sostanze distinte cioè la luce è sempre in realtà colorata e appare bianco quando è mescolata fra di loro questo è il successo della teoria dei colori di Newton fa in modo che la sua impostazione rimanga dominante per lungo tempo anche se ovviamente una teoria puramente corpuscolare trova immediatamente difficoltà in molti campi una reazione proprio alla teoria corpuscolare viene da Christian Huygens il quale suggerisce riflettendo appunto sulla propagazione della luce e su vari effetti suggerisce che invece la luce non può essere costituita da corpuscoli materiali perché questi nel loro movimento interagirebbero l'uno e l'altro quindi ci sarebbe necessariamente una dispersione e in analogia coi suoni Huygens propone l'idea che la luce invece sia un'onda che consista di onde ossia vibrazioni rapidissime che sono prodotte dalle particelle di materia siccome queste onde si propagano anche nel vuoto è necessario a sostenerle che ci sia un mezzo estremamente sottile che lui chiama etere luminoso e questo questo mezzo deve costituire il supporto di queste onde e delle vibrazioni delle onde come l'aria è supporto delle vibrazioni sonore questo etere deve avere delle proprietà di tipo meccanico deve essere perfettamente duro ed elastico ma anche sottile per poter penetrare in tutti i corpi e questo etere inoltre noi non lo percepiamo e quindi deve essere qualcosa che non è percepibile non è un'entità molto semplice da trattare un altro contributo importante che viene nel 600 è la misura della velocità della luce ricordate per Galileo la luce aveva velocità finita per Cheplero infinita per Cartesio infinita per Newton finita e quindi a un certo punto questo diventa un argomento importante e questo viene risolto dall'astronomo Röner con una misura degli occultamenti dei satelliti di Giove Giove che ha quattro satelliti entrano nella sua ombra ogni volta che fanno un giro l'intervallo fra due successivi occultamenti osservati dalla Terra è inferiore al valore medio in altri è superiore al valore medio Römer spiega questo fatto dicendo che siccome la Terra si muove nel corso dell'anno il segnale luminoso che si ha quando il satellite è occultato impiega più o meno tempo a seconda di dove si trova la Terra nel corso dell'anno raccogliendo i dati per un lungo periodo riesce a vedere che la velocità della luce comunque è finita perché se fosse stata infinita non ci dovevano essere queste differenze di tempo nella lunghezza dei periodi e lui trova una velocità di 220.000 km al secondo il problema della velocità della luce diventa delicato in particolare nell'Ottocento ci sono misure sempre più precise finché si arriva al valore attuale che sono circa 3 in 10 alla 8 metri al secondo però tutte queste cifre sono significative e questo non è più viene preso come il valore esatto ed è diventato l'unità della misura anche per le lunghezze e così via quindi un punto importante che è chiarito che la velocità ha una velocità finita nel 700 l'ottica non è più un argomento di grande importanza l'ottica newtoniana si diffonde dappertutto e viene accettata in modo abbastanza critico ci sono dei tentativi di migliorarla in particolare da Ruder Boscovich però insomma sono tentativi che non hanno impatto sulla cultura corrente che invece è interessata ai problemi della meccanica il dibattito Leibniz Newton Cartesio su che cosa si conserva se l'energia se la visviva quindi energia o il momento questo è un dibattito importante nel 700 e poi c'è l'attenzione ai fenomeni chimici e ai fenomeni elettrici che compaiono e si cominciano a conoscere in particolare i fenomeni chimici cioè l'effetto della luce sulle reazioni chimiche porta Lavoisier alla fine del 700 a sviluppare una teoria della luce e del calore materiale come delle sostanze come un fluido materiale elastico lui dice sottile perché deve poter penetrare dappertutto però questo fluido è materiale ma è privo di massa e quindi mette la luce e il calore assieme all'ossigeno all'azoto e all'idrogeno come sostanze chimiche che entrano poi nelle reazioni chimiche e così via quindi questa teoria del calorico che trascina con sé anche la teoria materiale della luce per molti per alcuni decenni per una cinquantina d'anni è dominante invece Jung nel 1803 a seguito anche di osservazioni di diffrazione di onde luminose da schermi con una o due fenditure trova che una descrizione di questi processi e anche del calore perché tratta le due cose assieme può essere dovuta può essere giustificata da una descrizione ondulatoria della luce quindi reintroduce diciamo una descrizione ondulatoria in particolare questo gli permette di associare ai colori le frequenze delle onde e inoltre è sua la prima formulazione del fatto che bastano tre colori combinati fra di loro per generare ogni altro calore la teoria ondulatoria diventa dominante nel corso dell'Ottocento diventa il paradigma per la descrizione dei fenomeni ottici consolidandosi grazie al contributo di molti fisici un lavoro fondamentale lo fa Fresnel che riparte dai lavori di Grimaldi sulla diffrazione fa una serie di sperimenti e elaborazioni matematiche mette in evidenza le proprietà della polarizzazione della luce che era stata diciamo introdotta come concetto e individuata da Malus nel 1810 trova le leggi dell'interferenza fra gli differenti stati polarizzazione e si convince e dimostra che la luce è un'onda ma è trasversale ossia le vibrazioni avvengano in un piano perpendicolare alla direzione dell'onda le sue ricerche portano a maturità la teoria della luce che non è molto corretta dal punto di vista matematico ma ci sono contributi di Cauchy Kirchhoff Ludwig von Helmholtz i quali rendono questa teoria sempre più precisa e in grado di descrivere un numero di fenomeni sempre più vasto un problema che rimane sospeso è quello dell'etere Jung deve rendere l'etere perché se ci sono onde devono propagarsi in qualcosa questo però mentre nel caso di Huygens bastava una definizione così generica poi non è che si potesse fare delle misure precise ma nell'ottocento si possono fare misure precise di che cosa è l'etere di come si comporta come deve essere fatto come interagisce o non interagisce col resto è quello che salta fuori che esperimenti diversi danno indicazioni diverse e questo etere bisogna stirarlo da una parte o dall'altra perché per spiegare certe cose serve che abbia certe proprietà per spiegarne altre ne deve avere altre tutti i fisici sono d'accordo che comunque deve esistere ma non sono d'accordo su quali sono le loro proprietà e inoltre anche il modo di concepire l'etere varia varia non solo da ricercatore al ricercatore ma anche per uno stesso ricercatore nel corso del tempo quindi da una parte abbiamo il dominio incontrastato della teoria ondulatoria dall'altra abbiamo questa palla al piede dell'etere che dovrebbe comportarsi in modi diversi esistere ma non essere rivelabile e trattabile in modo secondo la prassi normale nel modo in cui i fisici trattano le grandezze fisiche finalmente noi abbiamo finora si conoscono moltissime proprietà delle onde luminose però ancora non si era trovata fino agli anni 60 dell'800 non si era trovata una descrizione di che cosa realmente sono il problema viene appunto viene risolto da Maxwell il quale con le sue equazioni per il campo elettromagnetico riesce a descrivere in modo completo le proprietà elettromagnetiche delle forze elettromagnetiche e le sue equazioni danno come conseguenza che se una carica elettrica si muove a un movimento un'accelerazione allora in questo caso deve produrre delle onde queste onde questa perturbazione si propaga nello spazio come un'onda tridimensionale che è caratterizzata da una velocità costante e si trova le equazioni di Maxwell dicono che questa onda deve essere un'onda trasversale e deve avere la velocità della luce e quindi esaminando il problema con dettaglio queste proprietà e ritrovando sempre poi il collegamento fra i parametri fondamentali della teoria che continuano a comparire la possibilità di onde caratterizzate da tutte le proprietà delle onde luminose portano Maxwell a concludere che in realtà la luce non è altro che un fenomeno di propagazione del campo elettromagnetico in particolare il problema è di vedere queste onde è estremamente difficile da vedere perché è quello che è un parametro fondamentale che compare per le proprietà di queste onde ovviamente è il fatto che viaggiano alla velocità della luce alla velocità di 300.000 chilometri al secondo e pertanto ogni esperimento che si può fare in una sala cioè quindi bisogna produrre l'onda di una intensità sufficiente che possa muoversi e poi serve un rivelatore che riesca a vedere nei tempi rapidissimi in cui la luce mette a percorrere una decina di metri quindi stiamo parlando di nanosecondi riuscire a vedere l'esperimento questo porta via 20 anni di ricerche più o meno da parte di molti scienziati finché viene risolto da Hertz il quale costruisce un apparato sperimentale abbastanza veloce nel produrre il segnale quindi riesce a scendere sotto i 20 nanosecondi e quindi riesce poi a osservare l'effetto dell'onda che arriva su un filo spezzato e produce una serie di piccole scintille queste scintille estremamente piccole estremamente rapidi però rivelabili in una stanza mantenuta completamente all'oscuro quindi le onde elettromagnetiche esistono quindi a questo punto noi sappiamo che la luce perde il suo ruolo centrale ontologico però perché non è altro che un settore una gamma delle radiazioni elettromagnetiche che in realtà possono avere qualunque tipo di lunghezza d'onda o qualunque tipo di frequenza mentre la luce visibile dagli uomini è compresa in una gamma limitata di frequenze quindi poi ci sono i raggi ultravioletti i raggi X i raggi gamma da una parte e per lunghezze d'onda più grandi prima i raggi infrarossi radar poi le onde radio le microonde e così via quindi la luce adesso sappiamo che cos'è non ha nulla di diverso dalle altre onde elettromagnetiche ha solo solo i nostri occhi riescono ad essere sensibili solo una piccola gamma di radiazione altri animali hanno le api vedono nell'ultravioletto altri animali vedono in altri settori e comunque quello che è importante che adesso noi sappiamo che cos'è però non ha più quel ruolo fondamentale e predominante rispetto ad altre onde elettromagnetiche e noi sappiamo che lo sviluppo ulteriore sta dando un ruolo sempre crescente a tutti gli altri tipi di onde elettromagnetiche una cosa curiosa una proprietà curiosa delle onde elettromagnetiche è quello di possedere oltre a energia anche una quantità di moto questa quantità di moto siccome l'energia diviso la velocità della luce è estremamente piccola per cui la luce non ci spinge non riesce a spingersi però non riesce a spingere noi però è quella che produce le code delle comete le comete quando sono lontane dal sole questa è quella osservata da Rosetta vedete non ha niente di coda quando si avvicina al sole il momento la quantità di moto della luce agendo sulla cometa la cometa è circondata da una coma cioè da un'atmosfera gassosa e la luce è sufficiente per buttare fuori atomi dalla coma e in questo modo viene creata la coda quindi la coda delle comete è proprio il frutto dell'urto della luce esiste poi un'altra coda che è soprattutto dovuta ai raggi cosmici emessi dal sole ai raggi diciamo alle particelle emesse dal sole però questo spiega perché la coda è sempre diretta dalla direzione opposta a quella del sole perché è proprio generata dalla luce che colpisce l'atmosfera della cometa quindi questo è una proprietà quindi siamo alla fine a parte il problema dell'etere esiste una immagine estremamente soddisfacente della luce immersa nelle radiazioni elettromagnetiche una teoria fortissima più che sicura la possibilità di studiare tutti i fenomeni legati alla propagazione delle onde elettromagnetiche qui compare Einstein a rompere tutto a rompere questa situazione questo vaso meraviglioso e Einstein è interessato come vedremo la luce gioca un ruolo importante nello sviluppo delle ricerche di Einstein primo punto lui lui ritiene che la luce lui introduce l'ipotesi che la luce la velocità della luce nel vuoto sia la stessa in ogni sistema di riferimento inerziale quindi nega la relatività galileiana dove esiste la legge di combinazione vettoriale delle velocità se ci sono se un corpo ha una velocità ed è soggetto a una struttura inerziale che a sua volta si muove le due velocità devono sommarsi come vettori Einstein dice questo va bene dappertutto con tutti i tipi di velocità ma non quelli della luce la luce nel vuoto in qualunque sistema di riferimento inerziale noi ci muoviamo cioè in moto rettilineo uniforme fra di loro la velocità del sistema di riferimento non si somma a quella della luce la luce ha sempre la stessa velocità questo principio messo assieme al principio di relatività ossia che ogni osservatore di un sistema inerziale vede il comportamento fisico dei sistemi dei fenomeni non cambia lo porta alla teoria della relatività particolare e questa teoria della relatività ha due conseguenze per quanto riguarda l'ottica e la luce primo è che la luce la velocità della luce non è più importante come velocità della luce ma diventa un parametro caratteristico della struttura spazio-tempo per cui la luce potrebbe avere anche un'altra velocità lo spazio-tempo è fatto in modo tale che esiste questa costante che chiamiamo c che coincide con la velocità della luce ma coincide anche con la velocità di ogni corpo che abbia massa nulla e che invece è un parametro cruciale della struttura dello spazio-tempo seconda conseguenza è che nella teoria della relatività particolare non ha bisogno del lettere per cui il lettere non ha il problema di andare a cercare le sue proprietà il lettere può benissimo non esistere le onde elettromagnetiche possano propagarsi tranquillamente nel vuoto senza nessuna necessità e questo è il primo effetto dirompente del ragazzotto Einstein però di questo non è pago perché di nuovo si mette a studiare il fenomeno dell'assorbimento dell'interazione della radiazione elettromagnetica con la materia e lui sostiene che per descrivere per esempio le proprietà del corpo nero è necessario prevedere che gli scambi di energia siano non continui ma multipli di quanti elementari di energia Planck era già arrivato alla teoria del corpo nero qualche anno prima introducendo una struttura discreta per quanto riguarda l'azione cioè un concetto più astratto Einstein dice no no è proprio l'energia che va a pezzettini e quindi questo porta alla necessità dell'ipotesi dei quanti di luce ossia la luce in questi processi si comporta non come un'onda ma come un gas di corpuscoli i quanti di luce questa sua la dimostrazione che questo è una proprietà necessaria della teoria dei quanti di Planck non viene ovviamente presa in considerazione e porta i fisici a dubitare della validità della teoria di Planck anche quelli che credevano un po' nella teoria dei quanti questo aspetto è troppo dirompente tanto è vero che quando Einstein viene chiamato a Berlino come direttore dell'istituto di fisica Planck nel presentarlo dice che è vero lui ha fatto questa vacata dell'ipotesi dei quanti di luce però è così bravo ha fatto tante altre belle cose per cui lo chiamiamo lo stesso ci può perdonare un errore a un fisico vedrete che cambierà idee nel tempo potete solo credere se Einstein cambia idee però lui grazie a questa ipotesi è in grado di spiegare l'effetto fotoelettrico l'effetto fotoelettrico era già stato scoperto da Hertz e vedeva che mandando luce sopra delle sostanze dei materiali da queste in alcuni casi in alcune condizioni escono degli elettroni singoli e le proprietà di questo processo è che l'intensità della radiazione incidente determina il numero di fotoelettroni che vengono messi fuori ma non ha nessuna importanza per quanto riguarda la loro energia inoltre seconda proprietà l'energia massima dei fotoelettroni dipende solo dalla frequenza della radiazione e per ogni materiale esiste una frequenza di soglia sotto la quale la radiazione non libera elettroni anche se è molto molto intensa invece se la frequenza supera la soglia si ha emissioni istantanee anche con bassissima intensità la teoria ondulatoria riesce a spiegare solo la prima proprietà ma non ha meccanismi per spiegare in nessun modo le altre quindi noi abbiamo quello che si vede che una luce rossa o una luce visibile solo se una luce infrarossa non emette elettroni solo qualche elettrone può venire con una luce fra visibile l'ultraviolette invece i raggi X buttano sempre fuori elettroni e anche i raggi gamma buttano sempre fuori elettroni quindi il fatto non dipende dall'intensità al di sotto di una soglia che è caratteristica per ogni materiale non c'è niente da fare elettroni non escono e se si va a vedere la massima energia degli elettroni questa massima energia dipende in modo lineare solamente dalla frequenza dell'onda che arriva queste cose non sono spiegabili dalla teoria ondulatoria invece Einstein con la sua ipotesi dei quanti di luce riesce a spiegarli dicendo che la radiazione non solo ha una energia quantizzata data dalle relazioni energie uguali la costante di Planck per la frequenza ma interagisce con la materia come una particella quindi con una localizzazione spaziale per cui non si diffonde su tutta la superficie ma attacca i singoli elettroni inoltre quindi l'energia di soglia è dovuta all'energia necessaria per liberare l'elettrone dipende dalla proprietà del materiale e l'energia dell'elettrone emesso quindi risulta per il principio di conservazione dell'energia come la differenza fra l'energia del fotone che arriva e il lavoro di estrazione che è fisso e pertanto questo spiega perché l'energia cinetica dipende solo dalla sola frequenza e quindi lui da questa spiegazione riesce a spiegare con queste ipotesi anche l'effetto fotoelettrico però oltre all'effetto fotoelettrico se veramente i quanti di luce i fotoni si comportano come particelle allora devono anche diffondere dagli elettroni come se l'urto fosse un urto fra fra due particelle e quindi questo Compton che non credeva nei quanti di luce e stava studiando le proprietà dei raggi X pensa di fare questo esperimento per dimostrare che la teoria dei quanti di luce non sta in piedi quindi non si può pensare che la luce e gli elettroni sbattano come palline di biliardo e allora fa una serie di esperimenti e quindi affronta il problema della diffusione di raggi X fotoni di un'energia superiore a quella di legame in modo da poter trattare l'elettrone come libero e fermo e quindi applica le leggi fondamentali dell'urto la conservazione dell'energia e la conservazione della quantità di moto ovviamente in forma vettoriale quindi trova che alcuni fotoni passano conservano l'energia iniziale ma vengono emessi anche dei fotoni con energia differente ecco qua quindi il fascio iniziale viene depauperato mentre escono degli elettroni che sono diffusi a seconda della posizione dell'angolo di diffusione cambia l'energia e quindi il processo è proprio come l'urto di due corpi putiformi il fotone incidente colpisce l'elettrone bersaglio e quindi l'elettrone il fotone viene diffuso a un certo angolo e l'elettrone rincula a un altro angolo le relazioni fra questi angoli sono dati sulla base appunto dei principi di conservazione energia in momento e l'ipotesi di Einstein da questa relazione e questa viene verificata da Compton con tutta la precisione che riesce ad avere nel suo esperimento e pertanto l'ipotesi dei quanti di luce fotoni è un'ipotesi che non si può rifiutare e entra in questo modo nella fisica del nuovo secolo naturalmente questo presenta un aspetto inquietante per la luce perché com'è questa radiazione qual è il suo status ontologico quindi c'è una doppia natura che è contraddittoria da una parte si comporta come onde le onde elettromagnetiche con tutte le loro proprietà in altre in altre situazioni si comporta come particelle come quanti di luce quindi compare come conseguenza questo dualismo di onde di particelle per cui il provero elettrone fotone ha questi problemi di personalità perché veramente non sa più che cos'è quindi e questo diciamo è la situazione in cui si trova diciamo siamo verso diciamo 1900-910 quindi è una situazione in cui tutto quello che era stato creato questo vaso perfetto di vetro è stato mandato a pezzi da questa situazione che la fisica non insomma che è inaccettabile diciamo a una impostazione realistica della fisica con questa situazione di dualismo come sapete in realtà i problemi verranno risolti una decina di anni dopo quando una volta scoperto che non solo la luce ha questo problema di dualità particella onda ma anche tutti i sistemi microscopici in realtà hanno lo stesso difetto quindi mal comune mezzo gaudio e vedremo e come sapete con la teoria dei quanti in qualche modo in qualche modo in modo ancora tutt'oggi definitivo questo problema è stato risolto comunque è importante cioè non ci si deve spaventare se un concetto è un concetto mal definito o non si riesce a definire in modo preciso netto perché in genere sono proprio questi concetti che sono quelli che porteranno allo sviluppo della nostra conoscenza qui mi fermo allora ringraziamo il professor Pascolini che ha riportato la disciplina nel suo ambito naturale che è quella della filosofia naturale la fisica infatti si occupa di temi generali che tante volte ci dimentichiamo quando ci applichiamo ai problemi specifici direi ricordo anche a quelli che ci stanno seguendo ci sono 14-15 scuole connesse che ci stanno seguendo che è possibile formulare delle domande ai nostri redattori o tramite una connessione skype all'indirizzo conferenza punto fermiana oppure tramite il sito facebook la pagina facebook che abbiamo creato che si chiama giornata fermiana 2015 è facile da recuperare quindi ci sono vari modi per poter formulare delle domande e avremo uno spazio alla fine della seconda relazione per fare le domande sia qui in sala che tramite questi strumenti ai nostri relatori quindi approfittiamo di questa opportunità e mentre facciamo le debite e connessioni vi presento il prossimo relatore che è Alessandro De Angelis è un professore che insegna all'università di Udine e all'università di Lisbona è un fisico e astrofisico che si dedica alla fisica delle alte energie e quindi alla fisica degli acceleratori di particelle e in particolare in tempi recenti alle particelle altamente energetiche che provengono dallo spazio in particolare il professor De Angelis è presidente della collaborazione che si chiama MAGIC e che governa fa le osservazioni attraverso un telescopio che sta alle Canarie un telescopio per raggi gamma per raggi molto intensi che si chiama MAGIC appunto e che è installato all'osservatorio nazionale alle Canarie e inoltre è membro fondatore del gruppo che gestisce il telescopio spaziale che si chiama Fermi e che è proprio dedicato alla rivelazione dei raggi gamma quindi raggi di alta energia come avete visto prima nella banda delle alte energie da sempre si è occupato di fisica delle particelle delle alte energie anche con collaborazioni al CERN o ad altri esperimenti come DELFI in precedenza e collabora con varie associazioni scientifiche in particolare si dà da fare si è dato e si dà da fare e lavora intensamente anche nell'aspetto educativo scrive libri fa divulgazione e ha favorito e ha promosso la formazione di di borse Erasmus in varie università in giro per l'Europa a favore degli studenti quindi è una persona attenta all'attività di promozione diciamo della cultura scientifica e oggi ci parlerà delle sue specialità i raggi ad alta energia professor De Angelis grazie mi sentite? funziona? no eh? lo so aspettare mi sentite? mi sentite adesso? ah si lo metto più vicino e facciamo così così va meglio? più vicino ancora? provo a parlare provo a parlare provo a parlare eh allora grazie per la presentazione grazie per essere venuti grazie a quelli che sono collegati questa aula ha una ottica particolare si riesce a copiare benissimo io in questo momento non sto insegnando sono qui a Padova come per lavorare soprattutto a progetti di ricerca e mi manca allora in questa presentazione io voglio mostrarvi illustrarvi alcune delle linee di ricerca attuali sulla sulla luce alle altissime energie avete visto nella presentazione precedente che la luce si può considerare come composta da pacchetti o quanti di energia che a tutti gli effetti sono analoghi alle particelle queste particelle noi le chiamiamo fotoni allora negli ultimi anni gran parte dei progressi dell'astrofisica e della scienza fondamentale sono stati legate all'acquisizione di nuove informazioni su questi nuovi tipi su queste sulle sorgenti cosmiche di particelle di altissima energia quindi io cercherò di mostrarvi perché come si è arrivati a tutto questo ma soprattutto cosa stiamo facendo e cosa possiamo fare qui vedete l'esperimento magic alle isole Canaria sono disposto so che tra voi ci sono anche gli insegnanti sono disposto ad aiutare a organizzare se volete delle visite a questo esperimento di cui parlerò dopo nel seguito quindi casomai contattatemi allora e e questo non funziona vediamo se funziona devo stare un po' più in centro e cercare di fare funzionare questo oggetto va bene uso questo come puntatore allora ok ah forse funziona ecco io da 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 era liceo volevo studiare astronomia e uno dei motivi per cui volevo studiare astronomia adesso non so quanto si vede a questa immagine era che è bellissimo guardare il cielo di notte c'è da proprio un'idea di immutabilità molti di voi probabilmente sono di Padova e quindi non hanno mai visto la Via Lattea chi è che non ha mai visto la Via Lattea qui? eh molti perché a Padova non si vede quindi dovete andare un po' fuori in qualche posto buio che ormai in Veneto è difficile da trovare io personalmente sono di Belluno quindi a Belluno è facile da trovare ma eh vi invito a farlo allora vedete un'immagine vedete una striscia che da principio vi sembra una nuvola ma poi quando gli occhi si abitano al buio vedete che è composto da tante tante stelline ecco quella è l'altra galassia la galassia di cui facciamo parte fino a 80 anni fa si pensava che fosse l'unica galassia dell'universo ecco avete idea più o meno di quante stelle ci sono nella nostra galassia circa facciamo una domanda quante più o meno dell'ordine dei miliardi circa 100 miliardi le abbiamo contate bene ecco nella galassia ci sono nell'universo sappiamo che ci sono circa 100 miliardi di galassie quindi siamo veramente una piccola parte dell'universo però vi dicevo fino agli anni 30 si pensava noi fossimo l'unica galassia se voi guardate poteste guardare dall'emisfero sud della nostra galassia vedreste una cosa così ecco quindi all'emisfero sud data l'inclinazione dell'asse terrestre si ha una visione della galassia molto molto migliore in particolare si vede il centro della galassia qui vedremo che c'è un oggetto molto importante un buco nero però questo anche vi spiega perché alcune popolazioni che vivevano all'emisfero centro-meridionale hanno sviluppato un tipo di astronomia diversa dalla nostra l'idea vi dicevo è un'idea di immutabilità io per esempio mi ricordo la netta sensazione di guardare le stelle la netta sensazione che aveva portato gli antichi a pensare che ci fossero delle stelle come incastonate in un panno se voi guardate in un posto buio sembrano proprio incastonate in un panno ma in realtà non è così cioè non è così questa quiete e questa debole luce sono la manifestazione di processi fondamentali che sono dei processi molto violenti per esempio noi siamo abituati a guardare il sole se non vediamo il sole in troppo dettaglio vediamo una sorgente di luce che è più o meno simile alle nostre lampadine potremmo costruire una lampadina a incandescenza con una temperatura simile a quella della superficie del sole e avremmo una luce simile però il sole come molte stelle riceve energia da processi che avvengono da processi di fisica fondamentale da processi nucleari e subnucleari da processi di fusione nucleare quelli che noi vorremmo realizzare sulla terra che hanno incredibile efficienza incredibile produzione di energia e che poi vengono moderati in modo tale che alla fine l'effetto visibile è soltanto la luce emessa dalla della fotosfera quindi se noi vedessimo il sole se noi non considerassimo il sole come sorgente astrofisica noi potremmo pensare a qualche cosa di dietro non appena noi cerchiamo di indagare qual è il meccanismo di funzionamento del sole ci accorgiamo che il meccanismo di funzionamento è un meccanismo basato su processi di altissima energia e ci abbiamo messo molto tempo a capire tutto questo circa un secolo è accaduto tutto nell'ultimo secolo questo è legato soprattutto a due fattori uno è la nostra posizione la nostra posizione è qui è molto periferica rispetto al centro della galassia noi viviamo in una galassia a spirale e viviamo nella periferia di un braccio il braccio si chiama braccio di Orione voi avete visto tutti la costellazione di Orione chi è che non ha mai visto la costellazione di Orione? allora invito siccome adesso si vede vi invito ad andare in un posto buio e guardare la costellazione di Orione allora voi potete vedere se avete un occhio allenato la via Lattea e poi vedete la costellazione di Orione che sembra fuori dalla via Lattea ma non lo è ci sembra fuori dalla via Lattea perché è vicino a noi noi siamo nel braccio di Orione della via Lattea d'accordo? quindi siamo qui il secondo motivo per cui la nostra visione dell'universo è stata finora così limitata è il fatto che i nostri occhi sono sensibili soltanto a una piccola parte della radiazione elettromagnetica quella con lunghezze d'onda che vanno all'incirca da 400 a 700 nanometri qui ho messo un'energia che alcuni di voi capiranno che cos'è 2,2 elettronvolt per gli altri lo spiego lo spiego in seguito approssimativamente ecco quindi la sensibilità massima è all'incirca nel colore verde se questo laser fosse verde lo vedreste meglio ecco come vedete questa sensibilità ricalca grosso modo lo spettro di emissione del sole questo è un fatto che io trovo straordinario e che voi potete interpretare sia in chiave evoluzionistica sia in chiave creazionistica siamo regolati il nostro meccanismo di visione diurna è regolato sulla luce solare io personalmente sono evoluzionista però è un bel meccanismo la visione evoluzionista di tutto questo è che quelli che vedevano in altre lunghezze d'onda le bestie se li mangiavano i sopravvissuti sono quelli allora questa energia se voi utilizzate la relazione che il professor Pascolini ha presentato la relazione scoperta da Einstein è uguale a Cagni che sebbene dal principio considerata un lavoro non fra i primi di Einstein è stato il lavoro per il quale Einstein ha vinto il premio Nobel perché Einstein non ha vinto il Nobel per la relatività ma per la formulazione di questa ipotesi sull'effetto fotoelettrico questa corrisponde a un'energia fra 1,8 elettronvolt e 3,1 elettronvolt a questo punto do una prima definizione di elettronvolt l'elettronvolt è l'energia acquisita da un elettrone quando passa attraverso la differenza di potenziale di un volt poi per quelli che non hanno ancora fatto elettrologia vedremo un pochino come si confronta con altri livelli di di energia va bene questo ci fa riflettere noi vediamo soltanto una piccola parte della luce questa piccola parte della luce che noi vediamo è dominata da processi cosiddetti termici quindi da sistemi in equilibrio a temperature di qualche migliaio di gradi che spesso però nell'universo non sono la causa dell'energia della radiazione ma il rispetto di un processo fondamentale che noi dovremmo capire e sul quale abbiamo molto imparato allora da circa cent'anni sono state scoperte altre forme di radiazione altre energie di radiazione altre lunghezze d'onde di radiazione alle quali voi siete familiari per esempio avete sentito parlare di raggi gamma o nei cartoni animati oppure studiando le esplosioni atomiche e conoscete i raggi X conoscete l'infrarosso avete giocato con una camera infrarosso probabilmente per vedere il vostro corpo le fughe di calore dalle finestre eccetera e conoscete le onde radio tutte queste lunghezze d'onda ci darebbero una visione diversa dell'universo allora chi ci dice che non ci siano oggetti nell'universo che noi non vediamo con i nostri occhi ma che sono invece visibili con altri tipi di radiazione in realtà questi oggetti ci sono quindi se noi guardiamo l'universo in una luce diversa scopriamo che i fenomeni fondamentali dell'universo sono diversi da quelli che noi vediamo con i nostri occhi questo è un esempio di tre visioni dell'universo allora questo è una mappa dell'universo un po' simile alla mappa che voi vedete della Terra è difficile fare una mappa dell'universo d'accordo noi vogliamo siamo nell'universo utilizziamo delle tecniche simili a quelle del globo terrestre su cui non ho tempo di andare in dettaglio ma comunque questa è una mappa dell'universo nella luce visibile questo che vedete è il disco della nostra galassia schiacciato vedete che al centro c'è un blob di stelle più antiche del quale parleremo un po' dopo se lo guardate nelle onde radio vedete questa visione dell'universo se lo guardate nella luce dei raggi gamma a energie miliardi di volte centinaia di milioni miliardi di volte più grandi della luce visibile vedete che la struttura fondamentale ricalca la struttura visibile ci sono oggetti nuovi in particolare si sono scoperti degli oggetti che comprenono soltanto nella nostra visione dell'universo nei raggi X e gamma quindi da migliaia di volte a miliardi di volte più della luce visibile questo è un oggetto a cui noi siamo molto affezionati che è la nebulosa del granchio la nebulosa del granchio è il resto di una stella che è implosa mille anni fa nel 1054 per qualche giorno è stata luminosissima si vedeva anche di giorno se voi la guardate con un telescopio ottico non capite quale sia la struttura se voi la guardate con un telescopio a raggi X vedete che c'è una specie di vortice di materia che ruota e probabilmente accresce una massa centrale accresce le vicinanze di una massa centrale e vedete dei getti che partono da un piano grosso modo perpendicolare al piano del disco di rotazione quindi noi potremmo usare studiare l'universo utilizzando anziché i nostri occhi o i cannocchiali o i telescopi ottici che sono estensioni dei nostri occhi utilizzando strumenti che consentono di mappare l'universo l'universo fotografato fotografato per esempio dai raggi X per esempio dai raggi gamma o per esempio anche dai protoni perché no noi potremmo guardare tutto quello che arriva e dire va bene costruiamo la mappa dell'universo che vedrebbe un essere che fosse sensibile a questo tipo di particelle o raggi che sono la stessa cosa ora questo vi darà un'idea delle scale di distanza a cui noi vogliamo accedere se questo è un metro a un chilometro è la tipica scala delle città mille chilometri è una scala in cui vedete l'Italia la distanza terra-luna è di circa un po' meno di 400.000 chilometri quindi sta in una scatola di un milione di chilometri un miliardo di chilometri vedete il sistema solare allora continuando a ogni passaggio a aumentare la scala di un fattore a diminuire la scala di un fattore mille ecco qui vedete i dintorni del sole qui cambia unità di misura comincia a usare l'anno luce allora l'anno luce è la distanza percorsa la luce in un anno quanti secondi ci sono in un anno vediamo sempre chi facciamo questa volta facciamo lei quanti secondi ci sono in un anno allora vi dico questa cosa che vale che vale il vostro viaggio fino a qui in un anno ci sono pi greco in 10 alla 7 secondi fate il conto questo pi greco è utilissimo quando fate i conti perché si semplifica in tutti i modi pi greco al quadrato per noi fisici fa 10 3 pi greco fa 10 4 pi greco fa 10 insomma tutti i fisici usano diciamo fare i calcoli in questo modo qui un po' approssimativo quindi allora pi greco in 10 alla 7 per 3 in 10 alla 8 metri al secondo che è la velocità della luce 10 alla 16 metri è un anno luce allora 0,1 anni luce sono 10 alla 15 metri beh vedete soltanto i dintorni del sole a 100 anni luce cominciate a vedere le stelle vicine a 100.000 anni luce avete la via latte alla nostra galassia e poi cominciate a vedere le altre galassie qui vorremmo fare un altro fattore mille ma probabilmente non possiamo perché pensiamo che l'universo non arrivi a una scala di 100 miliardi di anni luce ma che sia più piccolo immaginiamo di avere un telescopio non direzionale quindi per il momento non occupiamoci della direzione e vediamo che messaggeri di questi fenomeni di altissima energia ci arrivano dal cosmo questi messaggeri li chiamiamo raggi cosmici raggi per un motivo storico non sono non sono raggi più di quanto non siano particelle o così quando quando sono state scoperte le particelle cosmiche si tentava di inquadrare tutti i fenomeni in termini di radiazione quindi sono stati chiamati raggi cosmici il termine è rimasto allora una volta al secondo su ogni centimetro quadrato dell'atmosfera terra arriva una particella di alta energia oltre il gel queste particelle hanno un'energia uno spettro di energia che decade rapidamente con l'energia stessa uno spettro di potenza diciamo quindi il numero di particelle per unità di tempo per unità di superficie grossomodo è proporzionale all'energia alla meno 3 vuol dire che ogni volta che raddoppio l'energia il numero di particelle diminuisce di un fattore 8 quindi immaginatevi se a queste energie ne avete uno ogni centimetro quadrato ogni secondo man mano che voi aumentate l'energia il numero diminuisce in particolare a questa energia qui che è circa un joule 10 alla 19 elettronomato circa un joule voi avete una particella ogni chilometro quadrato ogni anno quindi non è facile alcune scuole hanno fatto dei progetti per l'osservazione dei raggi cosmici utilizzando il fatto che le scuole sono dislocate in varie posizioni e quindi in realtà si possono mettere dei rivelatori a grandi distanze e cercare ottimisticamente di vedere se io ho un bel raggio cosmico di alte energie c'è qualche scuola che è coinvolta in questo tipo di programmi qui? alla fine cercherò di vendervene uno o regalarne uno come volete va bene pensate che un collega americano che ha fatto questo esperimento ha avuto la fortuna di trovare un bellissimo raggio cosmico che poi è riuscito a pubblicare quindi perché la fortuna è un premio gli audaci quindi bisogna crederci va bene queste particelle che arrivano sono per lo più protoni un po' meno del 10% sono nuclei di elio e uno su mille è un fotone una particella di luce vedremo che questo uno su mille ha un'importanza cruciale per la scienza ha avuto e ha un'importanza cruciale sulla scienza gran parte di quello che noi sappiamo lo sappiamo grazie a questa piccola frazione le energie più alte sono energie di una pallina da tennis su una superficie concentrata su una particella e sono molto più grandi delle energie che riusciamo a produrre a LHC vediamo che questo problema delle energie massime è stato analizzato da Enrico Fermi già negli anni fino agli anni 40 va bene qui faccio l'intermezzo che avevo promesso per quelli che non hanno ancora studiato elettromagnetismo o tutti avete studiato elettromagnetismo qualcuno non ha studiato elettromagnetismo? è rimasto in quarta quindi l'avete fatto tutti? ah va bene allora vi do soltanto va bene vi do soltanto un paragone che è semplice che si può usare a volte per spiegare alla mamma il problema è sempre spiegare alla mamma la mia mamma non c'è che no 4000 GeV è circa l'energia cinetica di una zanzara questa è l'energia di LHC in una particella e l'energia più alta che noi abbiamo visto finora in una particella è 10 alla 21 elettron quindi circa 1000 GeV ed è circa l'energia cinetica di una palla da tennis ben lanciata i raggi cosmici non sembrano arrivare da una particolare direzione a parte piccoli effetti questi piccoli effetti sembrano essere collegati ma sono ancora in grande discussione con resti di supernova quindi resti di stelle che sono collassate le stelle sapete si sostengono grazie all'energia prodotta quando questa energia finisce collassano collassano implodono da un lato ed esplodono dall'altro e quindi lasciano nel cielo dei resti di questo tipo questa è la nebulosa del granchio oppure nuclei di galassie che sono dei buchi neri poi ne discuteremo in maggior dettaglio che si accrescono a spese della galassia e emettono dei getti di materia vi ho detto da principio che ogni secondo arriva sulla Terra sull'atmosfera terrestre è circa un raggio cosmico di altissima energia per centimetro quadro fortunatamente non arrivano qui da noi l'atmosfera ci protegge questi raggi cosmici per lo più interagiscono con la parte alta dell'atmosfera e generano sciami di particelle che quindi sono meno pericolosi per la nostra salute se voi viaggiate spesso in aereo oppure vivete in altissima montagna avete una quantità di radiazione maggiore i nostri occhi poi in particolari condizioni possono rivelare dei raggi cosmici ed è accaduto che alcune persone abbiano sentito chiaramente l'effetto di un raggio cosmico sul loro occhio questo è confermato da un esperimento russo molto bello ecco questo è un cartone animato di cosa succede quando è una simulazione in realtà quando un raggio cosmico arriva nell'atmosfera e qui viene degradato allora voi volete capire a livelli della superficie terrestre qual era l'origine di un fenomeno di questo tipo questo non è facile ma prima di andare in media stress sugli esperimenti attuali voglio soltanto dirvi come abbiamo imparato tutto questo perché è importante diciamo anche se è importante anche capire come gli esseri umani sono riusciti a realizzare tutto questo quindi tutto vi raccomando un bel film che potete scaricare su Pirate Bay facciamo pubblicità no non si può non potete scaricare su Pirate Bay si chiama The Strange Case of the Cosmic Race e è prodotto da Frank Capra che forse conoscete magari più giovani non lo conosco ma è un regista quello che ha fatto la vita è meravigliosa quel film che mostrano sempre a Natale no vabbè comunque a un certo punto la Disney ha fatto produrre a Frank Capra una serie di telefilm scientifici di documentari scientifici con cartoni animati purtroppo l'iniziativa non ebbe successo erano un po' noiosetti però avevano dei consulenti molto bravi in particolare Bruno Rossi che è stato professore ordinario qui e Anderson che ha vinto il premio Nobel quindi questo film qui vi fa capire in modo divertente e serio però molte cose sui raggi cosmici dura 50 minuti si trova in rete diciamo così non si trova nei negozi allora come abbiamo imparato tutto questo? beh un secolo fa immediatamente dopo la scoperta della radioattività ci sono stati due esperimenti indipendenti e complementari ci si chiedeva se la radioattività venisse dalla terra oppure da solgenti extraterrestri e due scienziati un italiano Pacini e uno stico Hess ebbero due idee complementari questo è esemplificativo di come funziona la scienza Hess disse se parte della radiazione terrestre viene dal cosmo qualora io faccia un volo in Mongolfiera vedrò più radiazione Pacini che viveva vicino al mare disse se parte della radiazione extraterrestre se io immergo uno strumento sott'acqua lo strumento vedrà meno radiazione d'accordo? entrambi gli esperimenti hanno successo Hess vince il premio Nobel Hess vince il premio Nobel Pacini era già morto molti ecco un'altra delle lezioni che si imparano da questa cosa l'ho sentita dire da un premio Nobel è che per vincere il premio Nobel bisogna fare la scoperta da giovane perché poi spesso viene assegnato troppo tanto vedete altri esempi in seguito di persone che hanno avuto un ruolo cruciale nella scoperta e che poi non hanno potuto avere il premio Nobel quindi due cose complementari la misura sott'acqua e la misura in Mongolfiera vi dico subito che personalmente ho provato a farle entrambe la misura in sott'acqua mi è riuscita ma con strumenti più moderni perché loro hanno degli strumenti veramente difficilissimi la misura in Mongolfiera invece non mi è riuscito da dove vengono i raggi cosmici una volta scoperto questo allora questa è una scoperta nel 1911 1912 pubblicata nel 12 da entrambi contemporaneamente a questo punto ci si chiede da dove vengono passano più di 20 anni fino a che appena dopo che era stato scoperto il neutrone uno scienziato marginale nella storia della scienza spesso anche questa questa è una cosa bella della fisica e spesso molte delle grandi idee sono sono attribuibili a scienziati marginali quindi Zicchi formula tre congetture veramente visionarie veramente futuriste una è che le stelle alla fine del loro ciclo di vita collassino in supernova si sono abbastanza pesanti nel nucleo della supernova si forma una stella di neutroni e questo è vero poi dimostrato vero all'epoca lui non aveva veramente i mezzi matematici per capire questo però comunque butta il cuore oltre l'ostacolo e formula questa ipotesi che poi viene dimostrata vera e poi l'esplosione risultante dall'implosione produce l'accelerazione dei raggi cosmici non dice come molto interessante d'accordo? e notate che il termine nova era dovuta a Galilei cioè Galilei ebbe la fortuna di vedere una supernova nella sua vita formulò un'ipotesi che era che la supernova che lui chiamava nova fosse o la nascita di una stella nuova o la fusione di due stelle e in effetti uno dei meccanismi di quello che chiamiamo oggi gamma ray burst fiotto di raggi gamma la fusione di due stelle quindi in qualche modo c'è una visione passano ancora 16 anni finché Enrico Fermi scrive l'articolo in cui spiega come queste esplosioni possano generare accelerare le particelle allora notate che Enrico Fermi aveva altre caratteristiche se voi saprete tutto di Enrico Fermi i problemi alla Fermi ve li avranno spiegati tutti questi problemi alla Fermi li conoscete quanti dentistici sono nel Veneto ecco compito per casa quanti dentistici sono nel Veneto d'accordo? poi io chiedo come avete risposto quanti dentistici ragionare Enrico Fermi diciamo era bravissimo nel formulare ipotesi senza avere tutti i termini del problema allora scrive il primo articolo sostanzialmente su un foglio di carta e lo pubblica nel 49 l'articolo non funziona è sbagliato perché questo articolo viene chiamato meccanismo di Fermi del secondo ordine però due anni dopo grazie a questo articolo Enrico Fermi riesce a pubblicare l'articolo che viene chiamato oggi meccanismo di Fermi del primo ordine in cui spiega l'accelerazione sostanzialmente nel meccanismo di Fermi ci sono delle onde d'urto le particelle rimbalzano avanti e indietro nell'onda d'urto l'onda d'urto ha una massa molto maggiore delle particelle ogni volta la particella rimbalza e acquisisce energie perché c'è una direzione preferenziale di espansione immaginate una serie di hammer tipo le auto hammer che urtano delle panda che vengono avanti avanti e indietro con dei rimbalzi allora vi mostro un filmato bello questo filmato è sono parecchi anni di un telescopio a raggi X che mostra cosa sta succedendo nella nebulosa del Granchio ecco vedete vedete le onde d'urto e vedete che il meccanismo di accelerazione di Fermi è un'ipotesi molto plausibile insomma questo è il conticino di Fermi siccome Fermi si divertiva molto con l'occasione questo è un disegno originale di Fermi si chiede ma cos'è che può accelerare le particelle nel cosmo e possiamo noi costruire degli acceleratori che siano potenti quanto gli acceleratori cosmici e fa uno dei famosi conti alla Fermi dice beh siamo sulla Terra quindi probabilmente il massimo acceleratore che possiamo costruire è un acceleratore che passa sul meridiano massimo terrestre il campo magnetico massimo che riusciremo mai a ottenere fa dei ragionamenti sottili su campi mantenibili a lungo ottiene 10 Tesla e attualmente devo dire 50 anni dopo se dovessimo fare una stima probabilmente diremmo lo stesso numero e ottiene come energia massima 5000 tera elettron volt vi ricordo che l'energia è grossomodo proporzionale al prodotto del campo magnetico per il raggio qui siete abituati a vedere la quantità di moto ma ha energie altissime i due concetti sono più o meno interscambiabili per esempio LHC che ha un raggio di circa 10 km un campo di circa 10 Tesla ottiene un'energia di circa 10 Tera d'accordo? un resto di supernova che ha raggi dell'ordine di 10 alla 15 km e campi dell'ordine di 10 alla 10 Tesla può accelerare particelle fino a energie dell'ordine di 1000 Tera sappiamo che esistono nel cosmo degli acceleratori ancora più potenti questo è un bel esempio del modo di ragionare di Fermi lucidissimo e poi viene considerato corretto quanto è vero quando è vero entro un ordine di grandezza allora voi sapete che l'HC è costato circa quanto è costato l'HC? qualche decina di miliardi più o meno tutto compreso allora Enrico Fermi dice che questo acceleratore verrà costruito l'acceleratore massimo verrà costruito nel 2010 e costerà 20 miliardi di dollari quindi ha sbagliato l'hanno un po' sbagliato ma entro un ordine di grandezza ancora non sappiamo allora brevemente vi accenno al fatto che gran parte delle scoperte di fisica fondamentale sono state ottenute grazie ai raggi cosmici in particolare la scoperta dell'antimateria questa foto è rovesciata ma non importa l'alto è qui nuove particelle in gran parte di queste scoperte l'università e il centro nazionale delle ricerche di Padova sono stati molto importanti e in particolare quella che probabilmente è la scoperta più importante degli ultimi anni che è il fatto che il neutrino è una massa diversa da zero anche questa è stata ottenuta dalla fisica dei raggi cosmici se ci concentriamo solo sui fotoni cosmici beh allora troviamo dei risultati dei risultati molto sorprendenti uno dei risultati è che ci sono sorgenti che emettono radiazione fino alle energie più alte che riusciamo a vedere fino a dove abbiamo costruito strumenti tutte le volte abbiamo trovato dei fenomeni peculiari in particolare oggetti che non trasmettono che non emettono in nessun'altra lunghezza d'onda a livelli apprezzabili abbiamo scoperto la radiazione da parte di buchi neri questo è un altro filmato che mi piace molto pensate questo filmato qui ha richiesto 15 anni per venire girato e questo vi mostra il centro della nostra galassia negli ultimi 15 anni vedete che ci sono delle stelle che orbitano molto vicino a qualche cosa di invisibile ma noi sappiamo cos'è qualcosa di invisibile ormai va bene allora se poi qualche professore vuole io gli tiro fuori i numeri e può fare l'esercizio misurate la massa del buco nero studiando le orbite delle stelle vicino al buco nero questo è un ingrandimento della nostra visione attuale dell'universo con un telescopio a raggi X e gamma le palline mostrano le visioni a raggi gamma di altissime energie sono circa 300 concentrate soprattutto nel centro della galassia dove ci sono i fenomeni più energetici questa immagine che potrebbe sembrarvi continua in realtà è costituita da 3000 puntolini rivelati dal satellite più sensibile ai raggi gamma che si chiama Fermi e che è in orbita dal 2008 circa perché studiamo soprattutto perché sono più importanti soprattutto i raggi gamma perché l'universo ospita dei campi magnetici allora qui uso un'unità di misura obsoleta che è il Gauss un Gauss è 10 alla meno 4 Tesla ma in generale negli articoli nei libri di astronomia trovate questa unità di misura oggi abbandonata negli spazi intergalattici ci sono dei campi dei campi magnetici misurati con una tecnica bellissima ogni tanto una cosa bella del nostro lavoro che ogni tanto tu vedi un articolo e dici questo è proprio bravo ho avuto un'idea che avrei voluto avere io una tecnica bellissima ha consentito di misurare che ci sono dei campi fra 10 alla meno 9 e 10 alla meno 15 Gauss in più nella galassia ci sono dei campi dell'ordine di un micro Gauss il campo magnetico terrestre è più o meno quant'è 10 alla meno 5 ho sentito Tesla va bene quindi meno di un Gauss e quindi noi per studiare l'emissione dei raggi cosmici carichi che sono quelli più abbondanti vi ricordo dalle sorgenti lontane e dovremmo andare a energie altissime e quindi siccome c'è quella saleggia che il flusso decade come E alla meno 3 quindi ogni volta raddoppio un fattore 8 in meno avremo bisogno di rivelatori grandissimi quindi o facciamo telescopi grandissimi o cerchiamo i raggi gamma che per quanto meno frequenti puntano direttamente alla sorgente in realtà abbiamo provato anche a fare degli esperimenti grandissimi questo per esempio è il più grande esperimento per raggi cosmici del mondo che è l'esperimento Auger in Argentina e ci sono migliaia di rivelatori di luce posti a intervalli di 1,6 chilometri una scacchiera di lato 1,6 chilometri su una superficie di 3.000 chilometri quadrati che è circa una volta e mezzo la superficie di tutta la provincia di Padova e adesso stiamo cercando di pensare a come migliorare questo rivelatore perché si è scoperto che questo era quasi giusto per quello che volevamo fare bisognerebbe farlo dieci volte più grande ma non si riesce quindi stiamo cercando di capire come migliorarlo insomma la rilevazione di sorgenti di raggi cosmici carichi ad alte energie è molto molto difficile attualmente stiamo anche pensando a utilizzare dei satelliti tipo mettere dei satelliti sopra la terra che puntano l'atmosfera per vedere gli sciami prodotti di raggi cosmici ma tutte queste tecniche sono molto difficili dovremmo lanciare delle lenti enormi nello spazio per cui siamo diciamo siamo a livello di tecnologia accessibile alla nostra generazione probabilmente anche alla vostra alla mia di sicuro probabilmente gli unici due canali sono la rivelazione di neutrini di cui non parlo in questo talk metto due slide alla fine che per il momento non ha avuto grande successo nel senso che sono stati rilevati soltanto in provenienza dal sole e da questa supernova che è esplosa nel 1987 quindi voi non l'avete vista probabilmente no non l'avete vista no voi non l'avete vista va bene però tocca quindi magari vi tocca nella vostra generazione una supernova e vi riuscite a fare degli articoli perché poi i fisici sono un po' anche cinici appena arriva un fenomeno di questo tipo subito si pubblica tipo da questa supernova qua sono arrivati una ventina di neutrini e sono usciti 400 articoli io personalmente ne ho scritto uno la rivista mi ha risposto guardi è stato già fatto ma come sono passati due giorni è troppo tardi allora l'idea sono i fotoni di alta energia quindi raggi x e gamma qui raggi x sono energie dell'ordine del migliaio di elettronvolt e sopra raggi gamma dal milione di elettronvolt fino al miliardo di elettronvolt vengono assorbiti dall'atmosfera terrestre quindi se io vado alle altissime energie posso sperare che qualche parte di questa pioggia cosmica arrivi magari su una montagna o su un alto piano se invece non hanno troppa energia beh allora devo lanciare un satellite qui apro una parentesi anche questa è esemplificativa di come la fisica procede allora questo dipartimento in cui voi siete è stato progettato e fondato da Bruno Rossi Bruno Rossi uno dei più grandi fisici cioè a livello di Enrico Fermi eccetera ma era molto sfortunato e in particolare la sua scoperta degli sciami cosmici questo effetto che venne fatta proprio a Padova venne trascurata perché la pubblicò su una rivista di secondaria importanza è soltanto in italiano ma la pubblicò cinque anni prima di Auger che invece viene e questo è provato se andate nella biblioteca di questo dipartimento trovate non l'articolo originale perché quello è stato fregato però una fotocopia dell'articolo originale sai chi l'ha fregato? allora satelliti la ricetta è satelliti oppure rivelatori sulle montagne per le energie più alte questo è Bruno Rossi poco prima che venisse a Padova Bruno Rossi venne chiamato a fare il direttore a 27 anni credo a 27-28 anni un'età in cui adesso la gente non ha ancora finito il dottorato quindi aveva un sacco di energie purtroppo venne espulso dall'Italia nel 1938 però non gli andò poi male perché andò a MIT a Boston a un certo punto negli anni 60 ebbe l'idea di studiare le emissioni di altissima energia dal cosmo prese un giovane come spesso si usa quel giovane era Giacconi che poi vinse il premio Nobel e assieme scrissero l'articolo sulla tecnica per la violazione di Ragigis per farsela finanziare utilizzarono un trucco che si usa spesso diciamo che anche Galilei usò in qualche modo cioè dissero che era per una ricerca militare che questo strumento avrebbe consentito di studiare le eventuali violazioni degli accordi di non proliferazione da parte dell'Unione Sovietica quindi venne finanziato addirittura i primi due non funzionarono le finanziarono un terzo pensate adesso se falliamo una volta non ci danno più un euro finché nel 62 con grande sorpresa trovò la prima soggetti di Raggi X e poi ne trovò decine di mille solo nel 2002 venne riconosciuto il premio Nobel all'astronomia X a quel punto Rossi era già morto e quindi il suo studente ebbe il premio Nobel il suo meritevole studente ebbe il premio Nobel attualmente questo è il più grande telescopio per raggi gamma quindi energie dell'ordine del milione da un milione di elettronvolt a 100 miliardi di elettronvolt 100 giga di elettronvolt e grandezza naturale questo qui è una persona vera è Jonathan Orms ex direttore della NASA l'oggetto il telescopio è grande 1 metro e 7 per 1 metro e 7 per 80 centimetri è simile a quel telescopio che potrete costruire nelle vostre scuole e poi vi mostrerò vi mostrerò come orbita a un periodo di circa 95 minuti perché gira a 575 chilometri di altitudine quanti esercizi ed è abbastanza luminoso così come la stazione spaziale è abbastanza luminosa anche lui ogni tanto si vede trovate dei siti su internet in cui vi dice esattamente quando si vede quindi potete fare un figurone con i vostri amici oppure quando uscite con un vostro amico o una vostra amica a dire tipo non so se adesso passa una stella cadente il nostro amore sarà per sempre ma voi sapevate che passava va bene in realtà non è una stella cadente ma trovate qualcuno che non lo sa pesa tre tonnellate che non è banale per un telescopio non è banale per un telescopio perché grossomodo mandare una tonnellata nello spazio costa 100 milioni di euro il prezzo attuale dei lanci spaziali è 100 milioni di euro a tonnellata quindi non è banale e consuma soltanto 650 watt di potenza c'è da dire che Fermi ha un piccolo precursore tutto italiano sapete che la NASA prima di lanciare i satelliti manda un precursore ecco qui il precursore avete visto la missione su Marte prima c'era il rotino piccolo così l'ho mandato quello grande ecco il precursore italiano si chiama Agile cosa fa Fermi quando un fotone urta Fermi si trasforma in una coppia elettrone più positrone questa qui viene registrata il segnale viene trasmesso a terra questo è Fermi prima del lancio questo è uno schema funzionale di Fermi il tracciatore quindi una serie di piani sensibili è stato costruito dall'industria militare italiana e questa è un'immagine di come si vedono l'industria ex militare italiana questa è un'immagine di come si vedono come si vede un fotone in un raggio di luce in ferro tra queste energie purtroppo il flusso cala troppo rapidamente quindi non riusciamo a costruire un satellite così grande però abbiamo il vantaggio che gli sciami di particelle penetrano fino vicino alla superficie terrestre o in alta montagna e quindi quello che possiamo fare è costruire dei rivelatori che rivelano queste particelle e vedere quindi la proiezione dello sciami questo rivelatore si chiama Oak ed è in Messico a 4200 metri di altitudine ed è un rivelatore che verrà inaugurato il mese prossimo in questa foto manca ancora un pezzettino questa credo sia di maggio dell'anno scorso l'idea alternativa questi rivelatori qui se voglio rivelare le particelle io devo mettermi a grandissime quote perché dopo lo sciami viene assorbito per nostra fortuna un'idea alternativa invece è utilizzare un segnale diciamo così terziario questa è la luce cosiddetta Cherenkov quando una particella viaggia a velocità maggiore della luce in un mezzo allora emette un cono di luce che è l'analogo del bang supersonico degli aerei quindi gli aerei viaggia a una velocità supersonica questa particella viaggia a velocità maggiore della velocità della luce nel metro per esempio se l'indice di rifrazione dell'acqua è 4 terzi la luce nell'acqua viaggia a velocità 3 quarti c beh è facile fare una particella carica che viaggia più veloce di 3 quarti c d'accordo? quindi si genera questo cono di luce allora noi possiamo vedere questo cono di luce che si propaga questo è lo strumento il fenomeno fisico maggiormente utilizzato dai telescopi anche in questo caso l'effetto viene chiamato Cherenkov Cherenkov era uno studente di un certo Vavilov quindi Vavilov diede la tesi su questo effetto quando il Nobel venne assegnato Vavilov era morto e Cherenkov vinse il primo Nobel quindi scegliete un buon relatore magari anziano questa è un'immagine di cosa accade quando una particella entra nell'atmosfera e vedete la luce Cherenkov che viaggia a grosso modo di conserva con con il fronte dello sciame perché l'indice di rifrazione dell'aria è vicino a 1 se voi mettete un grande telescopio questo grande telescopio può rivelare questa piccola luce perché la luce è piccola sono diciamo a 2000 metri di altitudine se avete una particella di 1000 giga di elettro in volta avete meno di un centinaio di fotoni per ogni metro quadro quindi dovete avere gli strumenti molto sensibili in un posto molto buio posti molto bui per esempio le isole le isole tropicali avremmo potuto scegliere altri posti tipo afghani ma no abbiamo scelto le isole tropicali questa è un'isola tropicale che si chiama La Palma che è una riserva naturale la parte l'alto piano è una riserva naturale l'isola è vulcanica questo è il cratere del vulcano questa parte qui il vulcano ha circa un milione e mezzo di anni questa parte qui è nuova relativamente nuova per esempio questa puntina qui è nata nel 1973 ci sono ancora dei vulcani attivi quindi l'isola si espande continuamente si possono comprare terreni nuovi se volete questa è una visione del cratere sullo sfondo vedete Tenerife e questa è sul cratere sono sistemati gli strumenti questo è uno di questi telescopi che è magic fino a due anni fa era il più grande del mondo e è un telescopio che è capace di ruotare molto velocemente questa è un'immagine in tempo reale non è accelerata come le altre che vi avevo mostrato quindi quando noi riceviamo un allarme da qualche satellite che ci dice guarda è successo un fenomeno importante perché molti di questi fenomeni sono transienti riusciamo a puntare in pochi secondi verso la direzione dell'esplosione o del fenomeno che è accaduto ripeto organizziamo gite ecco questa è un'altra immagine di magic in cui vedete allora il diametro è 17 metri quindi è un diametro molto grande questa casetta che avete visto prima questa casetta che avete visto prima è una casetta di due piani poi potete chiedere tutto e tutte le curiosità che avete immagino io ne avrei molte allora ci sono questi specchi ormai gran parte dei telescopi che sono fatti con specchi mobili quindi ci sono dei sistemi di allineamento per cui gli specchi possono venire movimentati su con due attuatori c'è un punto fisso ci sono due attuatori che muovono lo specchio quest'anno alla Biennale di Venezia c'era un'opera che era fatta con degli specchi con degli attuatori che si chiama Reflecting Venice con le stesse tecniche nostre va bene vi dicevo grande superficie l'immagine viene formata su un piano focale dopodiché viene trasmessa alla sala di controllo che è quella casetta che avete visto e lì viene analizzata l'immagine è di questo tipo ogni tanto vedete delle sezioni coniche ecco ci sono delle particelle i muoni la cui firma è una sezione conica poi se volete riusciamo a formulare un bel problema per casa su questo ma è difficilissimo van via ore per risolvere e vabbè e poi dalla forma si riesce a distinguere il tipo di particelle questa è un'immagine che è stata scelta come astronomy picture of the day sapete che la NASA sceglie ogni giorno l'immagine di astronomia più bella allora questo vi mostra come noi allineiamo gli specchi li allineiamo mandando dei fasci laser verso il piano focale dopodiché abbiamo un sensore che ci dice quando puntano nello stesso punto a quel punto lì il sistema si arresta ecco notate che normalmente il laser non si vede qui non vedete il fascio laser però abbiamo trovato una rarissima giornata di nebbia perché lì le nuvole noi siamo a 2300 metri le nuvole corrono a 1600 abbiamo trovato una giornata di nebbia e quindi uno di noi particolarmente ruffiano ha detto facciamo astronomy picture of the day e in effetti ci hanno scelto però con questi strumenti qui il cielo non ha la stessa quiete che aveva nell'immagine ottica ma più che un'immagine sembra un film questo è un'immagine del cielo costruita in questo modo allora immaginate che noi giriamo il cielo in modo tale che la galassia è sul piano equatoriale quindi non si vede noi ci mettiamo qui al centro dell'universo ci piace questa cosa del centro dell'universo ci piace anche se non è più di moda e immaginiamo come sarebbe l'universo visto dall'alto o dal basso quindi pensatelo anche in chiave dantesca a molte interpretazioni allora quindi si vedono gli oggetti estragalattici e come vedete gli oggetti estragalattici si accendono e si spegnano quindi il cielo a raggi gamma è un oggetto molto variabile perché è così variabile? perché i fenomeni di altissime energie che sono quelli estragalattici devono essere di grandissime energie perché noi li vediamo qui perché l'emissione si attenua come uno su R quadro allora se noi alcune come uno su R quadro allora perché noi li vediamo devono essere di altissima energia e quindi probabilmente vengono da da intensi collassi gravitazionali probabilmente ancora più energetici di quelli caratteristici dei resti di supernove noi conosciamo in realtà dei fenomeni delle sorgenti che possono produrre questo tipo di fenomeni e sono i buchi neri supermassicci delle galassie lontane la nostra galassia ha un buco nero che ha 4 milioni di masse solari così sapete già la soluzione quando fate il conto con le orbite ma ce ne sono che hanno miliardi di masse solari bene in quelle galassie lì si possono osservare quei fenomeni che danno luogo a questi accrescimenti crescimenti improvvisi questi accrescimenti a volte durano secondi sono brevissimi quindi bisogna essere molto fortunati per prenderli anzi in realtà siccome ne abbiamo presi molti sospettiamo che siano più frequenti di quello che pensiamo perché la fortuna ha un limite in particolare in questi ultimi tempi abbiamo verificato la congettura di Ziki osservando l'emissione di raggi gamma da parte di oggetti scuri cioè nuvole di materiale nei resti di supernove e poi abbiamo visto l'emissione da buchi neri lontani 5 minuti 8 minuti ma comunque va bene mal ce la farò in particolare abbiamo visto che anche il nostro buco nero una volta era attivo questa è un'immagine in raggi gamma della nostra galassia però questa è un'altra cosa bella ci sono due oggetti di questo tipo due bolle sopra e sotto la nostra galassia che sono dimensioni confrontabili con la nostra galassia queste sono state scoperte con i dati del satellite fermi questa è una storia molto bella perché i dati della NASA quindi anche del satellite fermi sono pubblici quindi chiunque può analizzarli però si ritiene che normalmente soltanto quelli che hanno partecipato alla costruzione siano in grado di tirar fuori il meglio della scienza ma è quella che secondo me è la più grande scoperta di fermi è stata ottenuta da dilettanti da gente che non aveva costruito il rivelatore quindi a volte l'intelligenza va per l'investimento senza l'investimento però l'intelligenza non avrebbe dato alcun che quindi il team di fermi a cui appartengo noi non ci siamo accorti che c'erano questi oggetti qui perché cercavamo oggetti più piccoli non ci aspettavamo un oggetto così grande una volta al giorno osserviamo delle emissioni di più alta energia che sono i cosiddetti gamma rayburst in cui per un breve attimo che vada da qualche frazione di secondo a pochi secondi c'è una sorgente che ha una potenza emissiva superiore a tutto il resto dell'universo l'ultima cosa di cui volevo parlare è che uno dei motivi per cui noi continuiamo a studiare questo tipo di fisica dei raggi di gamma di altissima energia è il fatto che ci aspettiamo noi sappiamo dallo studio dei moti delle galassie in particolare della nostra galassia non so se avete visto l'articolo che è uscito sul network ieri è stato pubblicizzato sia sul Corriere della Sera sia sul Repubblico oggi se guardate ci sono tre ragazzi di cui uno ha studiato a Padua di Lisbona tra l'altro che hanno trovato degli effetti inattesi sulla distribuzione di velocità nella nostra galassia va bene quindi noi sappiamo che gran parte della materia dell'universo appare in una forma che è diversa dalla forma di cui noi siamo fatti e quindi questa è una nuova rivoluzione comunitaria questa materia oscura se esiste si manifesterà nella forma di raggi gamma e di neutrini e questo anche vi dice qual è la nuova frontiera di questo tipo di ricerca allora il mio orologio dice che avrei ancora sei minuti però non so se concessi va bene allora in questi sei minuti brevemente uso questi ultimi sei minuti per dirvi cosa ci aspettiamo nei prossimi 10-15 anni nei prossimi 10-15 anni come grandi rivelatori per raggi cosmici ci aspettiamo il perfezionamento di un rivelatore che si trova in Antartide e che ha già rivelato i primi due neutrini cosmologici che adesso sono in corso di studio e che è strumentato con un chilometro cubo circa si chiama Ice Cube ed è strumento a circa un chilometro cubo di ghiaccio nell'Antartide a una profondità tra i due e i tre chilometri un altro strumento il cui finanziamento è in corso di discussione adesso che consiste in due serie di stringhe simili a queste di rivelatori che però sono nel mare mediterraneo e ce ne saranno una vicino a Tolone una vicino a Catania e questa qui è in dubbio il finanziamento perché era in Grecia e poi eh no c'è poco da ridere e un grande rivelatore in cui l'Università di Pado l'INFN di Pado e l'Università sono molto coinvolti che si chiama Cherenkov Telescope Array di cui io sono responsabile per l'Italia che consiste in un grande telescopio da 23 metri una serie di grandi telescopi da 23 metri vedete il tipo di specchio che avranno questi telescopi questo è l'ingegnere giapponese che li fa abbiamo scelto un ingegnere giapponese così lo specchio sembra più grande e una serie di piccoli telescopi di responsabilità dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e questi oggetti pensiamo di sistemare due tipi di rivelatore di questo tipo uno probabilmente in Cile e uno probabilmente ancora alla Palma la Palma è attualmente il nostro sito preferito ci sono altri due siti in concorrenza la Palma è il problema che siccome siamo sul cratere di un vulcano le opere di ingegneria non sono facili in conclusione spero di avervi convinto che la luce delle stelle è la manifestazione di fenomeni di altissima energia che solo adesso stiamo cominciando a capire e che ci rivelano della fisica fondamentale io penso che il futuro della fisica delle alte energie sia in questo settore questi fenomeni sono basati su equilibri molto sottili che però in passato hanno dimostrato di essere sorgente di nuove conoscenze quindi quelli di voi che probabilmente faranno fisica che studieranno in quest'aula che copieranno alla grande in quest'aula probabilmente avranno modo di studiare tutto questo vorrei concludere qui ma prima di concludere vi do tre compiti per casa il primo compito per casa è di guardare il cielo quindi quelli che non hanno mai visto la via lattea è un'indecenza è la nostra galassia cioè uno dice sono andato a Parigi sono andato qua sono andato là ma la nostra galassia va vista ecco quindi due leggervi un libro questo è mio ma lo trovate in biblioteca allora io guadagno circa un euro per ogni copia venduta chi lo legge e viene a farmi domande io lo autografo e gli offro un bicchiere di vino terza cosa cercate di fare un esperimento per vedere i carriaggi cornici perché si può allora qui a Padova adesso non so se c'è dal corso dal corso e non è venuto qui a Padova potete trovare dei begli esperimenti didattici che però possono avere dei risultati scientifici pubblicabili anche quindi potete arrivare quando fate i concorsi avete già una pubblicazione fatta al liceo e poi avete una marcia in più vincete tutti i concorsi ecco grazie 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 al professore ci sono tantissimi spunti per le vostre tesine di maturità qua dentro oggi proprio avete una miniera quindi anche anche adesso meno un quarto all'una abbiamo abbiamo fatto un po' tardi ma qualche domanda se c'è sicuramente la trasmetto per quelle che non riusciamo a trasmettere o che arrivano che ci vengono in mente dopo propongo di fare una sessione offline e mandare qualche domanda eventuale anche nei prossimi giorni se mi arriva volentieri ecco qua i relatori li ho guadagnati alla risposta perciò se qualche domanda avete da fare subito o se mi arriva da da sky per ora tutto tace ho qualche connessione ma senza domande ecco qua oppure le trasmettete a me a scuola io faccio da tramite benissimo qualche domanda una una velocissima semplice quanta parte hanno gli italiani in questo tipo di ricerca cioè la ricerca italiana a che punto sta eccolo qua Flavio Dal Corso evocato è arrivato subito eccolo qua appena citato ah eri connesso comodo sulla tua poltrona perché qui si può copiare bene ma è un po' scomodo da starci seduti come avrete potuto notare non capisco questa pubblicità il copiare ma insomma e se ne parlava prima qua si copiava all'airon si ricorda insomma eccola qua che prima ha detto che certe particelle possono andare più veloce della luce in determinati mezzi perché la luce viene rallentata nei mezzi perché le particelle non vengono rallentate nei mezzi come al solito sto cercando una risposta intelligente sto cercando una risposta intelligente eh anche la luce può essere piccola anche la luce può essere piccola a un certo livello diciamo allora la risposta che mi suggerisce il professor Pascolini è perché le particelle di altissima energia possono avere una lunghezza d'onda efficace così piccola che non sentono gli stessi fenomeni di interazione elettromagnetica che noi in realtà chiamiamo a cui noi attribuiamo l'effetto dell'indice di rifrazione non so se le ho risposto le ho risposto diciamo con onestà ma se ho risposto in modo comprensibile questo è il problema spesso mi scuso spesso non riesco a ecco una bella tesina però ho dato una risposta onesta giuro no vi assicuro ecco adesso adesso cito una persona che non c'è più io invitavo spesso per i miei studenti Margherita Hack che veniva sempre e lei riusciva a essere diciamo a non fare sconti ma andare avanti fino a che non trovava una via per convincere la persona che aveva fatto la domanda e a volte stava lì quattro ore se volete dopo proviamo in qualche modo diciamo se lei è molto sotto la scala di se la lunghezza d'onda qui viene allora alle particelle così come lei sa che più o meno alle particelle associabile una lunghezza questo ecco se la lunghezza d'onda è molto più piccola delle scale a cui si manifestano i fenomeni elettromagnetici nell'atomo la particella passa senza neanche sentirli questi effetti quindi può andare più veloce della vita solo se è sufficientemente energetica se è sufficientemente energetica in realtà questo non è completamente vero perché poi questa particella l'effetto Cerenco fa una manifestazione dell'interazione coerente con questi fenomeni però più o meno diciamo ho fatto uno sconto sei e mezzo mi dia sei più quanto contano gli italiani in questi progetti qui era l'altra domanda sì l'altra domanda è quanto l'Italia è avanti in questo tipo di ricerca allora l'Italia è uno dei grandi paesi in questo tipo di ricerca adesso diciamo come finanziamenti se una volta nei grandi progetti europei pesavamo diciamo dell'ordine del 20% adesso pesiamo dell'ordine del 10% c'è stata una riduzione però l'Italia diciamo i paesi europei che spendano di più in questo momento in questo tipo di fisica secondo me c'è solo la Germania siamo come la Francia un po' meglio della Spagna qualche altra domanda non ci credo che non abbiate delle curiosità perché io ne avrei tantissime dal corso vuoi dire qualcosa sullo strumentino che possiamo usare nelle nostre scuole forse in realtà è un progetto un prototipo che sta cercando di partire diciamo l'idea è quella di costruire dei rivelatori per agi cosmici piccolini che costino poco che non abbiano bisogno di manutenzione che gli studenti si possano costruire almeno in una certa misura e che permettano di fare qualcosa di non troppo banale diciamo sono adesso non so se posso tornare indietro sull'immagine sono dei scintillatori da circa 30 centimetri due quadrati di 30 per 30 centimetri e sono i raggi cosmici sono letti da una scheda di acquisizione prodotta l'esperimento è copiato da un analogo esperimento che gira negli Stati Uniti si chiama QuarkNet l'innovazione che noi vorremmo apportare è quella di rimuovere i fotomultiplicatori che sono ingombranti costosi hanno bisogno di alta tensione e sono delicati sono diventi quindi se cascano si rompono allora vorremmo sostituire i fotomultiplicatori con dei silicon fotomultiplier quindi con degli oggetti molto piccoli e che non si rompano diciamo ecco diciamo allora di mezzo l'immagine di quello che è il rivelatore di QuarkNet noi vorremmo sostanzialmente tagliarlo togliendogli la coda diciamo rimane solo il quadrato di scintillatore lo scintillatore viene letto da due oggettini che sono grandi un millimetro quadrato e che hanno la stessa funzione del fotomultiplicatore il segnale viene inviato una scheda di acquisizione che è sempre quella prodotta dagli americani e viene letta da un pc i computer vengono messi in rete tra tutte le scuole che partentano del progetto tutte le scuole che sono i dati delle altre scuole possono fare dei punti ordinati quindi possono fare le scelte estesi possono fare i risulti di flusso diciamo di raggi cosmici confrontando le misure presenti in una scuola che si trova in una scuola o quella che si trova nel mare possono fare di qualche misura di vitro e di un uomo e cose queste cose soprattutto ci si può giocare un po' perché sono oggetti che non hanno bisogno di molta manutenzione non si rompono facilmente allora restiamo in contatto fiduciosi di poter collaborare va bene mettiamo la nostra tra le scuole candidate a ricevere uno di questi oggetti vorrei fare anche notare che ci sono attualmente tre o quattro industrie che hanno nel mondo che hanno la tecnologia per costruire questo tipo di rivelatori su grandi superfici diciamo dell'ordine del pollice quadrato e una delle quattro è di trento questa è una cosa insomma una giapponese una tedesca un inglese un italiano cinque un americano quindi sia nel campo della ricerca di base sia nel campo della tecnologia l'Italia si fa ben valere mi sembra di poter dire allora suggerimento per il primo esercizio che ha dato per casa mi risulta che oggi o domani c'è la giornata di l'illumino di meno e la proposta venerdì e fra le varie cose l'INAF l'Istituto Nazionale di Astrofisica con la partecipazione anche all'Università di Padova ha lanciato proprio un programma di osservare le stelle in questa occasione per cui se voi andate sul sito dell'INAF o anche dell'Università di Padova ci sono suggerimento per questa operazione di osservazione della Via Lattea approfittando dell'operazione mi illumino di meno ecco benissimo accogliamo allora tutte queste suggerimenti ringraziamo ancora i nostri relatori professor Pasqualini e il professor De Angelis ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno seguito su Youtube e speriamo di ripetere con questo successo la manifestazione anche l'anno prossimo ci vediamo alla prossima occasione arrivederci comunicazione di servizio riprendiamo l'autobus dove l'abbiamo preso quelli che abitano vicino e vogliono andare a casa vanno a casa a piedi gli autobus ci saranno tra dieci minuti penachiamo un po' Grazie.